Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad un signore di Bologna che mi ha trovato casualmente e che voleva capire se c'era qualcosa da fare per la sua ipocondria, il suo conato di vomito, questi effetti negativi psicosomatici che risalgono a quando sette anni prima lui aveva avuto una relazione con una donna la quale aveva fatto stalking e quindi aveva somatizzato questa rabbia, questo odio, questa paura eccetera eccetera nel suo corpo. Le ha provate tutte in sette anni senza riuscire a risolvere il suo problema e mi chiedeva se fosse possibile ritornare quell'uomo di una volta forte nel pieno benessere della sua salute perché adesso si è sposato una figlia eccetera eccetera. Come fare per dimenticare il passato negativo con l'ipnosi vera e professionale? Io gli ho risposto che il mio metodo, metodo DCS, intanto l'ho invitato prima a fare tutti gli esami del caso ma sembra che non abbia nulla di organicamente leso perché il responsabile della sua salute pubblica è soltanto il suo medico curante e ci ho detto posso dare soltanto consigli, consigli all'uopo, al bisogno e consigliarlo di andare presso un professionista di ipnosi vera e professionale con la prima iuscola perché c'è tanta gente che non sa fare ipnosi, aggiungo da strisciare la notizia, ipnosi fuffo, ipnosi paura e cercare di eliminare le immagini, i programmi inconsci come dice qualcuno, convincere il suo pilota automatico il suo subcosciente che la causa che risiede nel subconscio che lo fa stare male viene cancellata non esiste più, naturalmente qui vanno utilizzate delle suggestioni ipnotiche ad hoc che non tutti sanno utilizzare perché dire ipnosi vuol dire tutto e non vuol dire nulla, l'ipnosi non è altro che un rilassamento della mente del corpo dove tramite suggestioni cioè parole ad hoc fate di arte perché l'ipnosi è scienza ma anche e soprattutto arte si cambiano le immagini da negativa a positiva e che significa tutto ciò sto bello ambaradan di parole che finché come un virus nel computer rimane quel problema emotivamente che lo ha scosso sette anni fa purtroppo non c'è nulla che si possa fare se non arrivare nel subconscio grazie all'ausilio, all'aiuto dell'ipnosi vera e professionale ed eliminare e trovare la soluzione, eliminare la causa a questi problemi. Ora come si fa? Ognuno c'è il suo metodo, l'ipnosi conformista commerciale che segue diciamo Milton Erikson ha il suo metodo però il mio metodo dicesse dell'associazione i prologi associati di Los Angeles Beverly Hills ha il metodo che si parte da un mp3 audio dove uno lo mette da solo e poi iniziano delle sessioni però molte volte soltanto con un solo mp3 ma anche con due o tre mp3 all'uomo mirati personalizzati al proprio caso si risolve il problema fino al cento per cento non è un modo di dire ragazzi bisogna provare il sottoscritto prima di essere un professionista dell'ipnosi vera e professionale l'ipnosi dcs e soprattutto un mentore le ha provate tutte sul proprio corpo sulla propria mente sulla propria vita ok poi che tu ci credono non è importante perché io sto qui davanti a te a mettere la mia faccia per sdoganare l'ipnosi vera e professionale e non per un tornaconto personale per cui lungi da me per cui vai ti prego presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona ti siedi e poi naturalmente giudichi sui infatti ci mancherebbe perché una volta un signore andò di milano andò da un guru dell'ipnosi e quando uscì molto blasonato pubblicizzato eccetera all'estero dopo che uscì gli feci la domanda e siccome ti sei sentito ma mi sono sentito rilassato ma scusami sei andato per eliminare una cosa per risolvere un problema oppure per rilassarti e basta questa è la domanda che devi porti perché poi l'ipnosi vera e professionale ragazzi lavora per obiettivi non si lavora per tanto per rilassarmi ok per cui le suggestioni del sottoscritto o di un professionista dell'ipnosi vera e professionale agiscono sul subconscio sul piloto automatico che conosce le cause e le soluzioni al tuo problema senza ma e senza se finché le proverai tutte ed è accesa la tua coscienza la tua logica la tua razionalità quella parte la tua mente che il 12 per cento secondo il mio pensiero della tua mente che di solito per il destrime ne risiede nella parte destra tutto sarà messo in dubbio tutto sarà criticato perché dio nostro signore ci ha dato la coscienza la razionalità per difenderci da qualcuno che ci dicesse con chi ci dica vai a buttarti nel pozzo tu come un fesso vai a buttarti però questa coscienza questa critica questa razionalità ti porta anche a bloccare le suggestioni positive quando dici non voglio più sentirmi male non voglio più alzarmi con il conato di vomito non voglio più avere questi postumi da stalker oppure da divorzi oppure da abbandono e così via per cui a questo signore che da sette anni soffre possiamo dire di questo problema e non ha nulla di rotto organicamente parlando gli consiglio vivamente se le approvate tutte anche presso guru di iniziare con l'ipnosi vera e professionale e non se ne pentirà ok io risolto tanti casi similari anche di ragazzi e nove su dieci sono tutte sciocchezze però quelle sciocchezze agiscono a livello subconscio il subconscio condiziona la coscienza la vita presente la logica ti fa stare male perché l'ipnosi agisce sulla mente sul corpo senza mai senza se seguimi su tutti i social fammi tutte le domande del caso io ti risponderò gratis compatibilmente con i miei impegni e con i miei tempi perché sono spesso all'estero e poi fammi tutte le domande del caso ok e aggiungo anche sto signore aveva problemi anche ad ingoiare cioè praticamente tutto si somatizza ragazzi l'emozione le immagini del passato cosa non ti scende cosa non vuoi ingoiare cosa non vuoi cosa vuoi cacciare fuori ok è tutto a livello subconscio la bella notizia che con l'ipnosi tenesse al 101 per cento senza ma e senza se l'ipnosi vera professionale aggiungo ok fammi tutte le domande del caso visto la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita al mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cese del dottor claudio saracino faccia il condividi con amici parenti che le hanno provate tutte senza mai risolvere il proprio caso perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita ok senza mai senza se e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cese del dottor claudio saracino al prossimo video un bacio un abbraccio